Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo che mescola amore, avventura e la possibilità di una seconda chance. La protagonista, guadagna da vivere conducendo turisti in false cacce al tesoro. Quando l'uomo che ha amato in passato, ritorna nella sua vita e sconvolta ma ora è una nuova donna. La storia offre avventura e un'ambientazione affascinante ma anche riflessioni sulla possibilità di perdonare e lasciarsi alle spalle il passato, aprendo la strada a una nuova speranza e a un futuro migliore. La trama del libro Summiting Wilder. L'amore è un rischio molto divertente di Christina Laurel, edito da Giunti, è la seguente. Figlia di un famigerato cacciatore di tesori, Lily Wilder sbarca il lunario usando le mappe disegnate dal padre per guidare i turisti in finte cacce al tesoro attraverso i meravigliosi canyon di roccia rossa dell'Ojuta. Quando Leo, l'uomo che un tempo amava, torna nella sua vita con un gruppo di amici per un weekend a cavallo, Lily non può credere ai suoi occhi. Francamente, vorrebbe portarlo in mezzo al deserto e lasciarlo lì. Sono passati così tanti anni dall'ultima volta che si sono visti e anche se non lo ha mai dimenticato, di certo non lo ha nemmeno perdonato. Per Leo, invece, il profilo di Lily è un miraggio bellissimo, quello del suo più grande rimpianto, del suo primo e unico amore. E superato lo shock iniziale vorrebbe solo poter dimenticare il passato e ricominciare da capo, ma lei è ormai una donna d'affari e una professionista, e come tale ha tracciato una chiara linea di demarcazione, non succederà mai. Quando però il viaggio va terribilmente e spassosamente storto, soli sotto le stelle nei labirinti isolati e pericolosi delle Canyonlands, Leo e Lily dovranno decidere se rischiare la pelle, e i loro cuori, nell'avventura di una vita. Sullo sfondo mozzafiato del selvaggio West, una storia vincente di amore, amicizia e seconde possibilità dalle regine incontrastate del romance americano. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.